Il CAV è un fiume in piena. Ma quale preavviso disfratto? Qui ormai viene distorto il significato delle parole. Si strumentalizza anche l'ovvio. Come possono verificare tutti ascoltando la mia intervista, non ho mai attaccato il presidente Mattarella, né mai ne ho chiesto le dimissioni. Silvio Berlusconi in un'intervista al giornale torna a ripetere, come aveva già fatto ieri, di non aver dimissionato Sergio Mattarella, qualora nella prossima legislatura venisse approvata la riforma presidenzialista, cavallò di battaglia del centro-destra in materia di revisione costituzionale. A domanda specifica spiega ancora il presidente Di Faio ha solo detto una cosa scontata, la palissiana, e cioè che una volta approvata la riforma costituzionale sul presidenzialismo, prima di procedere all'elezione diretta del nuovo capo dello Stato, sarebbero necessarie le dimissioni di Mattarella che ripeto potrebbe peraltro essere eletto di nuovo. Tutto qui lo scandalo, una semplice spiegazione di come potrebbe funzionare la riforma sul presidenzialismo proposta nel programma del centro-destra. Poi arriva l'affondo pesantissimo sul letta come si possa scambiare questo per un attacco a Mattarella rimane un mistero. O, forse, si può spiegare con la malafede di chi come Enrico Letta, mi attribuisce un'intenzione che non è mai stata la mia. Insomma Berlusconi non le manda dire alla sinistra che ha tentato discreditarlo non resta che fare i conti con la verità delle sue parole. Grazie a tutti.